Dentro il testo troverete anche un riferimento, mi sembra il punto 27, che riguarda un tema a noi abbastanza caro in questo periodo, il punto 27, che riguarda sia lo sviluppo della lotta contro l'elusione fiscale, contro l'evasione fiscale, contro i paradisi fiscali, quindi la necessità di lavorare su questi temi. Sapete che questo è un punto sul quale in Italia stiamo lavorando, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci sarà un provvedimento del governo sul tema dei capitali illegalmente esportati e altre materie di questo tipo. Segnalo che in questo punto 27 c'è un riferimento che abbiamo fortemente voluto rispetto a una delle discussioni più accese che c'è stata riguardo alla legge di stabilità, qui viene chiamata taxation of the digital economy, ovviamente il riferimento in Italia è stato rispetto alla cosiddetta Google Tax o Web Tax, a seconda di come la si voglia chiamare. E' evidente che quel tipo di intervento fiscale che la Camera dei Deputati ha inserito nella legge di stabilità che oggi viene in votazione alla Camera ha bisogno di un coordinamento con le norme europee essenziali, quindi per noi l'essere riusciti a mettere l'inserimento di questo punto e con Assunas Possible nei prossimi mesi, in primavera come esito della discussione che faremo e alla quale parteciperemo anche noi ci consentirà di sciogliere un nodo che è un nodo sicuramente che va sciolto, quello della relazione tra una nostra norma primaria così importante che ha fatto così discutere e il quadro comunitario. Infine credo che sia importante dire come è stato poi nella discussione confermato l'importanza del lavoro che nell'anno 2013 che si chiude si è impostato sulla lotta alla disoccupazione giovanile. Il primo gennaio partirà questo grande strumento e questo importantissimo progetto europeo che è la garanzia per i giovani è stata una delle decisioni più importanti di questi mesi, adesso parte, va applicata perché la lotta alla disoccupazione giovanile deve essere la più importante delle politiche che mettiamo in campo in questi mesi e in questi anni così duri dal punto di vista del disagio sociale. Non possiamo tollerare che sul tema dell'occupazione giovanile non si riescano a ottenere risultati rispetto a un disagio così elevato. È stato confermato che l'Italia ospiterà questo vertice l'anno prossimo sulla disoccupazione giovanile, la data verrà identificata nelle prossime settimane, questo vertice al quale diamo molta importanza, vertice tra capi di Stato e di Governo e i Ministri del Lavoro e le istituzioni europee, la Commissione, la Banca europea degli investimenti e gli altri soggetti, credo che sarà molto molto importante perché per quanto ci riguarda questa vorrà essere la bandiera sicuramente del nostro impegno europeo e nazionale naturalmente dell'anno prossimo. Il semestre di Presidenza avrà questo come uno dei titoli principali e credo per l'appunto che rappresenti tutto questo per noi una ragione di impegno fortissima. Quindi concludo e aspetto le vostre domande per dire che si conclude il 2013 con questo importante passo avanti. Se lo avessimo fatto prima avremmo evitato tanti danni sociali ed economici all'Europa, l'Unione bancaria. Questo lo dico perché nel commentarlo oggi anch'io e anche noi e anch'io con la spinta europeista che ho dentro e che voglio sempre portare avanti avrei preferito un impianto tutto comunitario e un bicchiere completamente pieno anzi con l'acqua che trabocca. Però ovviamente è molto importante che si sia trovato un'intesa, un accordo e questa intesa e questo accordo in questo caso il tempo conta molto. Trovarla subito è stato molto importante e molto significativo. Secondo me è un messaggio forte che noi diamo ai mercati, al resto del mondo, ai risparmiatori risparmiatori che hanno vissuto con giustamente il panico, le crisi anche recenti, non molto tempo fa Cipro cos'è stato? Marzo, febbraio, marzo. Quindi stiamo parlando di vicende che non sono così lontane, sono ancora dietro le nostre spalle e d'altronde il downgrading di Standard & Poor's è la dimostrazione. Ripeto che l'Europa e noi siamo tutti ancora sotto osservazioni e quindi è assolutamente necessario mantenere la prudenza del buon padre di famiglia. Lo dico a tutti coloro che in Italia vorrebbero che invece del buon padre di famiglia ci fosse Babbo Natale. Io credo che è assolutamente necessario invece che ci sia il buon padre di famiglia, che ci sia la capacità di fare scelte equilibrate, di incentivare, di abbassare la pressione fiscale, di fare scelte equilibrate che riescano a tenere il nostro paese credibile e dentro un'Europa che sia credibile in uscita dalla crisi come sta, spero, avvenendo.